Buon pomeriggio ragazzi, oggi il video parte da qua, guardate la gente che sta al mare sono l'una e mezza e quindi, vedete? Perfetto ragazzi, che bello, non c'è tanto sole ma fa caldo della madonna, sempre grazie a sto ventarello Ecco qua ragazzi, e questo è il Pasio Marittimo, sempre nella solita spiaggetta, adesso vado, mi avvicino al lavoro e continuo a fare il video Eccomi qua, davanti alla marina, che secondo me non ha per più quest'anno, fatti loro, ormai io sto lavorando però ora sta via che peccato comunque, vabbè, ognuno sai farti loro ecco qua la spiaggetta Francesco quella che ti piace a te non so se stai guardando i video in questo momento, perché sei in Peli e in Italia, quindi quando li vedrai vede che ti sto salutando Francesco vedete la gente che sta in questo pezzetto di spiaggia, mi avvicino al lavoro ragazzi ragazzi, scusate guardate che stanno facendo questi due ragazzi è il drago è il drago bene, ragazzi, con questo video che finisco al mare vado a travacare buono ragazzi, poi guardate che spettacolo oggi veramente ragazzi giornata favolosa vedete adesso sto tavolo da dieci, otto persone da fare qua, alla rossa dei venti è uno dei titolari praticamente, questo due mi metterò i soldi e adesso mi metto a cucinare, mi porteranno cosa devono mangiare e via guardate che via va di barche che ci sono barchette che vanno fuori, tornano dentro quel locale lì è pieno anche io ho lavorato, pure l'altro è pieno ora faccio questo tavolo da otto e mi preparo ancora la linea buono, vamos ragazzi, questo piatto è un piatto spettacolare sono tagliatelle a pesto di mente e gamberoni spettacolo tagliatelle a nero di seppia spettacolare se le vede mio fratello mi taglia le... eh, per non dire altro vamos via Cristina vai bellissima allora questa è burrata, gamberi, rucola e un goccino di panna spaghetti spettacolare ragazzi ve l'ho fatta da ragazzi vediamo cosa mi dice dopo se sono buono o no ok stasera sto andando meglio perché ho la spalla perfetta guardatela questa è la spalla perfetta si chiama Daniele un grande aiuto veramente mi sta dando stasera guardatelo e lo giuro che nel giro di un mese un mese e mezzo lo faccio diventare un piccolo chef se mi segue se mi segue sempre adesso vediamo se posso fare qualche video dei primi ragazzi sto rientrando adesso a casa l'unica cosa che mi turba è che non riesco a fare i video che faccio dei primi e secondi non ho il tempo proprio non ho il tempo materiale guardate cosa c'è là sotto 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 zona Kwekiki centro commerciale vedete la gente che sta mamma mia ok ragazzi con questo piccolo video che ho fatto ora in questo momento sigillo tutto quindi chiudo vi mando sto video a domani ciao ragazzi grazie di tutto ciao ciao